We fungate, mi sono Dammino e siamo tornati qua sulle bellissime mappe di Ale Clasher a tema Fall Guys Ovviamente il link per scaricarle è in descrizione che rimanda al suo link che mio padre al mercato comprò Ma andiamo avanti, voglio vedere cosa ha fatto stavolta, vediamo un po' benvenuto nella seconda versione Remake di Turnaround Più difficile E simile a generale anche Nelle nuove mappe Slime Climb Pazzesco E Wall Guys Puoi giocare quando vuoi, guardandoti e cliccando i pulsanti Ok Enjoy Bellissimo, complimenti ad Ale Ale dopo questo la Redcraft può solo accompagnare Puoi entrare quando vuoi, ovviamente faccio prima iniziare la Red 3 e poi verrei a visitarla Io vorrei subito provare Gioca tutti i giochi in ordine, no voglio fare questo Sta caricando, sto vedendo cosa ha cambiato, non so nemmeno io cosa Proviamo ragazzi, proviamo Vai Attenzione, 3, 2, 1 La musichetta Mamma mia Mamma mia Taglia Attenzione, fortissimo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Oh! Oh! Ce la fa! Una mia! Iniezione Oddio, non ho capito qua cosa devo fare Scusate, ho smesso la canzoscina No! Ok, ho capito, ho capito, ho capito Viso e josè Devo prendere qua Non mi ha dato Non mi ha dato Ma perché non lo prendo Te la farò Perfetto Qualificato Ha messo il timer Il timer non è Ok non c'è il timer Però andiamo a vedere finalmente le altre Tut 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 Sbrigati per non finire ucciso nella lava Ok grazie 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 Vediamo un po' ragazzi Questa è la mia specialità su Fall Guys Ovviamente scrivete qua sotto nei commenti Se vorreste rivedere la mappa Di nuovo su Twitch Giocando a Fall Guys anche con Ale Clash Tut 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 Oh signor Come si fa qui Come Non ho capito Ok Parkour Bellissimo No Mannaggia Ah non si può passare Non si può passare Non si può passare Eliminato Maledetto Non si può passare di lì Puoi sempre provare Certo che si si riprova Tut 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 Dai due Uno Via Bello Dai voglio queste cose ragazzi anche nella red Io voglio queste cose anche nella red Ale Clash quando vuoi Attenzione Tut 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 Attenzione qui Eh Eh Attenzione Maremma sua È durato di più Dai dai Ah dai guarda guarda Maledetto Ale Clash che l'ha messo più Più lento Maledetto La Amma mia ragazzi Tut tut un'insegna Tut 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 No Ma no Maledetto Ale Clash Maledetto Schippa 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 Compane album dai attenzione slime crime tentatore ah scusate la canzone è nata tut 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 Questo ragazzi prende il tempo Una cosa impossibile No Vai Mino Doppio salto Pazzesco 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 Bellissimo Tutto 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 Vai Qui bisogna stare attenti Via Tutto 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 Attenzione qui E Vai 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 e Vai 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 e Vai 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 e Via Tutto 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 Attenzione qui Attenzione qui Attenzione 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 qui no Via Bam Sbo 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 E andiamo avanti Tutto 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 Wall guys Voglio vedere come l'ha fatta A mo' di parkour Sì Ok A mo' di parkour Attenzione Attenzione Mino No Ok Mino sbaglia L'ho sbagliato malissimo Ho detto Saltiamo nella parte Sbagliata Ok qua Attenzione qui Dove bisogna andare Se andà di qua Attenzione Attenzione E Incredibile Incredibile Mino Mino ce la fa Ce la fa Tutti lo davano per spacciato Invece Mino Attenzione Attenzione Mino Attenzione Mino Attenzione Mino E Oramai ragazzi The best The best In the parkour Incredibile Boh 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 Flexa sulle Clasher Flexa sulle Clasher E ragazzi Queste erano le mappe Volete provarle anche voi Volete aggiungerci qualcosa Volete migliorarle Fate quello che vi pare Link in descrizione Per scaricarle Grazie mille alle Clasher Di averle Messe Qua A disposizione di tutti Da Mino è tutto Lì nello studio Ciao ragazzi Mi raccomando alle Clasher Farne altri Perché sono divertentissime Ciao